Ciao ragazzi, in questo video completiamo il discorso sugli assintoti cominciato nel video precedente occupandoci del caso degli assintoti obliqui. Si dice che la rata y uguale mx più q è un assintoto obliquo di f di x per x tendente a più infinito, se si verifica che il limite per x tendente a più infinito della funzione f di x meno mx meno q fa 0. Graficamente parlando, se una retta fa da assintoto obliquo per la funzione, quello che accade è sostanzialmente che il grafico della funzione f di x, quando la x tende a più infinito, vedete, tende ad avvicinarsi sempre di più al grafico della retta. E quindi quello che succede è che la distanza tra il grafico della funzione e l'assintoto tende a 0 quando x tende a più infinito. E naturalmente la definizione col limite sancisce proprio questa cosa qui. Infatti se voi prendete due punti p e q, uno sopra l'altro nel piano cartesiano, uno a bordo diciamo del grafico della funzione e l'altro sull'assintoto, questa formula ci dice sostanzialmente che la differenza di ordinate tra il punto p e il punto q, perché vedete f di x rappresenterebbe naturalmente l'ordinata del punto p, mentre mx più q, che qui voi sottraete, rappresenterebbe se volete l'ordinata del punto q. E quindi quello che dice questa definizione è che quando la x tende a più infinito, la differenza delle ordinate di p e q deve tendere a 0. E se tende a 0 la differenza delle ordinate di p e q, allora capite che tende a 0 anche la distanza tra i due grafici. Un'analoga definizione si può dare per gli assintoti obliqui quando la x tende a meno infinito. In questo caso naturalmente si ti chiederà che il limite per x che tende a meno infinito, sempre di f di x meno mx meno q, faccia 0. E graficamente parlando la situazione sarà analoga a prima, capite? Questa volta però l'avvicinamento tra il grafico della funzione e la nostra retta assintoto ce l'avremo quando la x va verso meno infinito. Come accadeva per gli assintoti orizzontali, una funzione può avere al massimo due assintoti obliqui diversi, uno a più infinito e l'altro a meno infinito. Ed è anche possibile che la stessa retta sia contemporaneamente l'assintoto obliquo destro, ovvero l'assintoto obliquo per x tendente a più infinito, e l'assintoto obliquo sinistro, cioè per x tendente a meno infinito. È inoltre possibile, come vedete qui nel primo grafico che vi avevo disegnato, che la funzione e l'assintoto si intersechino e per trovare le eventuali intersezioni sarà sufficiente mettere a sistema y uguale f di x con l'assintoto e risolvere. Queste intersezioni possono essere un numero qualsiasi. Veniamo a questo punto alla domanda da un milione di dollari. Come diavolo faccio a capire se una funzione ha o meno un assintoto obliquo? L'idea è che bisogna provare a calcolarsi un paio di limiti. Innanzitutto uno prova a determinarsi il coefficiente angolare, e per fare questo c'è questa formulina. Limite per x che tende a più o meno infinito, a seconda naturalmente che voi stiate cercando l'assintoto obliquo destro oppure quello sinistro, di f di x fratto x. Se questo limite vi dà come risultato un numero reale diverso da zero, allora si prova a calcolare questo secondo limite che ci fornisce l'eventuale termine noto del nostro assintoto. Limite per x che tende a più o meno infinito della funzione meno mx, dove l'm naturalmente sarà quello eventualmente trovato prima. Se anche questo secondo limite ci dà come risultato un numero reale, quindi una quantità finita, allora possiamo concludere che la retta di equazione y uguale mx più q è l'assintoto obliquo. Ah, perché si richiede che il coefficiente angolare m sia una quantità diversa da zero? Perché naturalmente che m e q dovessero venirci due numeri reali, uno se lo aspettava, no? Se il limite per il coefficiente angolare infatti desse come risultato infinito oppure non esistesse, non sapremo quale numerino mettere qui nell'equazione del nostro assintoto, no? Ma perché ecco lo vogliamo diverso da zero? Perché se fosse uguale a zero e se naturalmente il q ci venisse comunque un numero reale, allora capite che una retta con coefficiente angolare uguale a zero è in realtà una retta orizzontale e quindi si tratterebbe di un assintoto orizzontale per la nostra funzione. E quindi se volete da un certo punto di vista gli assintoti orizzontali non sono altro che un caso particolare degli assintoti obliqui. Per fissare meglio le idee vediamo subito un esempio e proviamo a verificare se la funzione y uguale x quadrato fratto x meno 1 ha o meno degli assintoti obliqui. Per fare questo proviamo innanzitutto a calcolarci il coefficiente angolare e vediamo se ci viene o meno un numero reale diverso da zero. Dobbiamo quindi calcolarci il limite per x che tende a più infinito se vogliamo cominciare col verificare se c'è un assintoto obliquo destro, altrimenti naturalmente meno infinito se volessimo il sinistro, di che cosa? È la nostra funzione fratto x e dividere la nostra funzione per x è sostanzialmente equivalente a moltiplicare per x il suo denominatore. Si tratta quindi di risolvere il limite per x tendente all'infinito di x quadrato fratto x quadrato meno x e trattandosi di una funzione razionale che ha il rapporto tra due polinomi dello stesso grado, il risultato di questo limite sarà il rapporto tra i coefficienti delle x di grado massimo, quindi in questo caso 1 fratto 1, 1. Per chi non sapesse come svolgere questo tipo di limiti ho realizzato un video apposito che trovate all'interno della playlist sui limiti e che trovate anche linkato nella descrizione qui sotto. A questo punto, visto che il coefficiente angolare ci è venuto reale e diverso da zero, dobbiamo provare a calcolarci il q e per fare questo dobbiamo calcolarci il limite per x tendente a più infinito di che cosa? Nella nostra funzione meno mx e come valore di m naturalmente ho preso l'1 che avevamo trovato prima. A questo punto non resta che fare i conti e naturalmente per risolvere questo limite ci conviene dare denominatore comune, così facendo vedete i termini x quadrato al numeratore si semplificano e ci resta il limite per x tendente a più infinito di x fratto x meno 1, che fa 1 per lo stesso motivo per cui faceva 1 il limite che abbiamo visto prima. Vi faccio poi notare che tutti i limiti che abbiamo calcolato finora darebbero lo stesso risultato anche se x tendesse a meno infinito. Possiamo quindi concludere, visto che sia m che q ci sono venuti due numeri reali e il coefficiente angolare m ci è venuto diverso da zero, che la retta di equazione y uguale x più 1 è l'assintoto obliquo della nostra funzione f di x ed è contemporaneamente sia assintoto obliquo destro che assintoto obliquo sinistro. Prima di salutarvi volevo poi dirvi alcune informazioni utili da sapere. In primis si può verificare facilmente che nel caso di funzioni razionali come quella dell'esempio che abbiamo considerato prima, cioè di funzioni che siano il rapporto tra due polinomi, c'è un assintoto obliquo se e solo se il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore. Vedete ad esempio noi avevamo un numeratore di secondo grado, un denominatore di primo e quindi in effetti il nostro numeratore aveva grado di 1 superiore rispetto al grado del denominatore e facendo i conti ci è venuto che l'assintoto obliquo in effetti esiste ed esiste sempre se la differenza dei gradi tra il numeratore e il denominatore è 1. In questo caso l'equazione dell'assintoto può essere determinata anche con metodi più elementari basandosi sulla divisione tra polinomi, che è una cosa che poi torna utile quando c'è da calcolare gli integrali di funzioni di questo tipo. Questo discorso lo approfondiremo sicuramente in un video apposito più avanti. La seconda cosa interessante da notare è che se la nostra funzione tende all'infinito quando x tende all'infinito, allora per risolvere il limite che ci dà il coefficiente angolare del nostro assintoto si può tentare di utilizzare il teorema di Hopital. Se lo applicate si scopre che il limite che ci dà il nostro coefficiente angolare è equivalente a calcolare direttamente il limite per x che tende a più o meno infinito della derivata prima della funzione. E questo in certe situazioni può essere più semplice rispetto a calcolare il limite di f di x fratto x direttamente. Mi raccomando però che questa soluzione funziona solamente se il limite di f' di x esiste. Se infatti vi venisse che il limite della derivata prima non esiste, allora non potete concludere nulla, quindi non potete dire né che m c'è né che m non c'è e dovete calcolarvi il limite di partenza usando un'altra tecnica. Per concludere volevo poi dirvi che il concetto di assintoto in un intorno di più o meno infinito può essere generalizzato al caso in cui il grafico della funzione, invece di avere la distanza da una certa retta che tende a 0 alla distanza da una certa curva tendente a 0. È quello che accade ad esempio la funzione x al cubo più 2x quadro più 3x più 4 fratto x di cui vi ho riportato il grafico qui accanto. E vedete che questa funzione per x tendente a più infinito e per x tendente a meno infinito ha il grafico che tende a sdraiarsi addosso a quello di questa parabola che vedete qui. Questa parabola poi la possiamo facilmente determinare dividendo effettivamente il numeratore per x e quindi notiamo che per ogni x diverso da 0 vedete la nostra funzione viene uguale a questa parabola più 4 su x. Ora se ci pensate bene questo pezzettino finale 4 su x quando la x tende a più o meno infinito tende a 0 e quindi cosa succede? Che la nostra funzione differisce da questa parabola x quadrato più 2x più 3 sempre meno mano a mano che la x tende verso più o meno infinito e quindi capite che la distanza tra il grafico della funzione e il grafico della parabola diventerà sempre più piccola. In una situazione di questo tipo non diremo quindi che la funzione ha un assintoto obliquo ma piuttosto che ha una parabola assintotica e in generale parleremo quindi di curve assintotiche. Per chi volesse approfondire la cosa vi lascio un link in descrizione qui sotto dove la trovate spiegata molto bene. Io per il momento ragazzi vi saluto, come sempre se avete trovato utile questa video lezione ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarci sulla pagina facebook e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video.